Poi quando i tifosi della Juventus non volevano Ancelotti, la Juventus era tenuta Ancelotti, lui l'ha mandato via. I tifosi, non è che... Però quello che ha detto Gambaro è una domanda a chi ci sta, cioè perché i tifosi della Juventus non hanno manifestato la rivoluzione? Perché erano in 30 ieri all'hotel dove Del Piero ha fatto la conferenza? Ecco, bravo! È vero che era giorno in settimana, era pomeriggio, la gente lavora, per fortuna, ma perché non c'è stata una presa di posizione molto molto forte? La mia risposta è perché la Juventus ha vinto. Se non avesse vinto, avete fatto una stagione da quarto o quinto posto... Allora, se domani faccio una... Quindi i tifosi della Juve hanno... l'80% dei tifosi della Juve ha molato Del Piero. Hanno mollato o comunque non hanno voluto andare contro la società che ha costruito una squadra da Scudette, che ha vinto lo Scudetto. Hanno capito. Quindi vuol dire che per i tifosi del Piero non è la bandiera, mi sembra ovvio. Ma no, ma mi sembra ovvio, mi sembra ovvio, ragazzi, ovvio. Per i tifosi della Juventus, la bandiera della Juventus è un signore che la prima cosa che ha detto, quando è diventato Presidente, è detto, togliete quello Scudetto all'interno. Farò di tutto nella mia vita per togliere quello Scudetto all'interno.